Siamo per la prima sezione alternativa di Firenze, appena arrivati nella zona del sisma, nelle prime decine di minuti, il nostro caporeparto ci ha detto di unirci a una squadra di comando di Viterbo che aveva localizzato una persona anziana viva sotto le macerie. C'era il figlio di questa signora Anna che ci indicava dove potenzialmente poteva essere. Con cui abbiamo creato subito una catena umana tra vigili del fuoco, noi del comando di Viterbo sono passati, subito si sono lanciati anche i colleghi del comando di Firenze. Abbiamo in poco individuato la persona che fortunatamente era rimasta con lo scivolare del tetto e del solaio, era rimasta sotto una specie di vano ascensore, c'era proprio il vano ascensore. I colleghi di Viterbo l'avevano aperta sul vano ascensore dalla parte del tetto, l'avevano rimosso quella parte lì dove c'era un varco di 30-40 cm in cui si poteva vedere a questo punto la persona. Quando siamo arrivati non era visibile ma in quel momento hanno aperto il tetto del vano e si è visto la persona. Dopodiché un ragazzo del comando di Firenze, Alessandro, che tra l'altro mi hanno detto che ha delle competenze specifiche nel settore sanitario, si è offerto ma qui tutti eravamo pronti a scendere dentro e Alessandro, che tra l'altro quando mi ha detto il suo nome, che si chiama come mio figlio, ha avuto una particolare emozione, si è prodicato ed è sceso in questo cavo. Una volta liberato parzialmente la porta del vetro, l'abbiamo sfondata con un piccone, messo un nomex per non tagliarsi, a questo punto entrava dentro anche Francesco per quadrivarsi con Alessandro per finire di sincastrare questa persona. Sono trovato con il collega Alessandro all'interno di questa nicchia ricavata sotto le macerie, dove c'era la signora Anna che ci rispondeva e collaborava parzialmente con noi. Niente, siamo riusciti a mettergli nel migliore dei modi, l'estricatore che ci era stato fornito dai colleghi Alessandro e poi da colleghi di Viterbo che erano in superficie e all'interno solo una cosa che è rimasta impressa è la parola di Alessandro che quando si era dentro alla signora gli ha detto ora siamo in tre, siamo qui, siamo insieme, non ti preoccupare, siamo qui, siamo con te. Questo è per farvi capire che i vigili del fuoco quando sono all'interno non lasciano. Eravamo lì con lei, ci sono state, a detta dei colleghi delle scosse, non le abbiamo sentite. Io mi incrociavo lo sguardo con Alessandro all'esterno, con Alessio, con il collega di Viterbo e erano loro la nostra forza. E quando siamo usciti è stata un'emozione, è stato come venire fuori non so che, soprattutto per la signora Anna. Bisogna anche a precisare che mentre facevamo quest'operazione ci sono state due o tre scoglie viscosse che non sono state per niente simpate da subire, soprattutto per loro, che forse non le hanno neanche sentite perché erano proprio dentro le macerie. Avevamo tutti quanti pronti a scendere, tutti i colleghi che si sono offerti e fortunatamente comunque anche con la collaborazione di Alessandro che ha queste competenze sanitarie sembra che la signora Anna sia stata portata in salvo senza danni ulteriori.